Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale Allora, mi vedete in questo stato perché ho appena finito di allenarmi e sono devastata, in effetti erano due settimane che non mi allenavo perché non mi sentivo, uno non mi sentivo motivata ma dall'altro lato non mi sentivo con le forze giuste però dopo tanti anni che mi alleno a casa io lo sapevo e lo so per certo che più non ti alleni cioè più non ti alleni con costanza e più non ti vuoi allenare però una volta che poi ti sei allenata ti senti, che ne so, tipo carica al massimo ti senti molto meglio fisicamente e io lo so per certo però capisco, vi capisco e perché ci passo anche io che molto spesso capita che dal divano, dal letto uno non si vuole alzare però proprio per questo c'è bisogno di tanta forza mentale più che fisica perché bene o male ce l'abbiamo tutti ma ci vuole tanta forza mentale quindi io vi sprono ad allenarvi, fatelo perché prima lo fate meglio vi sentirete e ve lo posso assicurare e prima di fare questo video perché ho registrato il video e ora sto facendo diciamo l'intro tutta sudata e mi sentivo veramente fiacca cioè mi sentivo senza forze invece ora potrei spaccare il mondo quando si troppo col crollo sul letto però quindi lago veramente mi raccomando un po' di forza di volontà ma iniziare dalle piccole cose non so questo è uno spunto quello che vi ho dato del mio allenamento questo è quello che faccio io solitamente anche quando è da parecchio che non mi alleno perché poi ho un allenamento un po' più intenso anche se questo ad oggi mi sembrava mortale detto questo io vi lascio al video mi ho da fare una bella doccia e mi raccomando forza allenatevi allenatevi non solo per la cellulite come dico sempre perché è importante ma proprio per la vostra anima perché vi sentirete meglio più libere, più appagate più tutte le cose positive immaginatele e mi raccomando mettetevi qualcosa di sportivo e allenatevi fate quello che volete bacio ah mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi al canale e se volete mettete un like al video un bacione out ciao a tutti 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 ciao a tutti